romelo lucacu ragazzi è fatta per lucacu oltre 5 milioni al celsi per il prestito secco e 7,5 milioni di ingaggio al belga domani alle ore 17 l'arrivo a Ciampino di Big Romelu e vai ragazzi meno male meno male abbiamo tribolato tanto siamo arrivati quasi alla fine del carciomercato almeno adesso abbiamo il nostro centravanti titolare senza nulla togliere a Belotti che si sta comportando in maniera egregia però mancava lui mancava il centravanti Boe il centravanti che ti fa salire la squadra che fa sponda che fa sportellate che fa salire il baricentro forte fisicamente di testa una belva mancava da davanti mancava una belva e adesso è arrivato lui Romelu Lukaku Romelu Lukaku finalmente finalmente che sia lodato il Signore sia lodato il Signore grande grande Big Romelu mamma mia mi è sempre piaciuto non pensavo minimamente che arrivassi alla Roma lo davo per certo o all'Inter o alla Juve e invece è arrivato a Roma anche riducendosi l'ingaggio ragazzi si è ridotto l'ingaggio per venire a trionfare sotto la curva nostra per i suoi gol che farà sicuramente che spaccherà le porte perché ha una potenza inaudita quanto sto fomentato ragazzi Romelu Lukaku Romelu Lukaku se me lo avessero detto l'altro anno due anni fa che sarebbe venuto alla Roma ma quando mai ci avrei creduto e invece quest'anno è stato un fattore di eventi c'è chi dice che è finito dite che è finito io intanto me lo prendo a Roma e cercherò con lui di scardinare le difese di spaccare le porte ah ah finalmente abbiamo un attaccante ragazzi finalmente abbiamo un attaccante è vero che arriverà in prestito per carità però io la stavo vedendo brutta non ce la facevo più tutte le sere a guardare queste notizie sui siti web se era fatta colazione pranzo cena per i cena colazione pranzo cena colazione pranzo cena sono quattro giorni che stanno a Londra a trattare meno male meno male alleluia alleluia che il Chelsea ci è venuto incontro e Lukaku si è ridotto lo stipendio da quello che ho capito da quello che ho capito si è ridotto lo stipendio domani ci saranno le visite di mediche le visite mediche e finalmente abbiamo partorito questo attaccante che aspettavamo da giugno da giugno non ce la facevo più non ce la facevo più è una cosa inaudita inaudita però alla fine almeno ragazzi dopo due gare indegne vogliamo dirlo due gare indegne della Roma contro la Salernitana e contro il Verona anche causa per questo mancato arrivo dell'attaccante perché prima si parlava di Morata poi di Scamacca poi di Marco Solenardo poi di Zapata poi è arrivato Asmund che nessuno conosce però sempre forza Asmund per carità forza Asmund che veste questa maglia adesso è arrivato finalmente lui una garanzia Romelo Lukaku forza Roma forza Romelo Lukaku ti invito a supportare questo video con un like iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto attiva la campanellina delle notifiche e seguimi su Instagram Romelo Lukaku eeeh oh dai aieh aieh Grazie.